L'Aikido è l'arte marziale ultima che è stata codificata da quello che mi ha chiamato Sensei, che vuol dire grande maestro, che è il maestro Morihei Ueshiba. Tra le arti marziali forse è la più complessa, è molto sofisticata, nel senso che c'è un uso del proprio corpo, dell'energia e della forza di se stessi e dell'altro, il lavoro di relazione, che le stesse leve sono effettivamente molto complesse, bisogna essere sinceri, quindi magari la spendibilità in termini di difesa personale dell'Aikido viene dopo altre arti marziali, poi però alla fine tutte mirano allo stesso punto e sono tutte poi difficili. Tutte le arti marziali non sono nate per l'autodifesa, quindi praticarle solo a quest'unico scopo sinceramente è assai un impoverimento. Certo è che siccome si allena il corpo, la mente, ci si allena rispetto a degli attacchi, è anche una modalità di autodifesa. Imparare a tirare un pugno è più semplice che reagire con un movimento più complesso o fare una leva, questo sicuramente. Devo dire che le arti marziali fondamentalmente non nascono in Giappone, le arti marziali nascono più in Cina, filosoficamente addirittura in India, poi c'è una grossa elaborazione ancora nell'Ottocento in Cina e poi sono state trasferite in Giappone. Il Giappone ha avuto l'abilità, ha avuto uomini che sono stati capaci di divulgarle e possiamo anche dire di commercializzarle più rispetto ad altre nazioni. Certo è che comunque un'arte marziale nasce in un contesto che è quello abbastanza potremmo dire medievale da un punto di vista culturale. Quindi gli aspetti non solo spirituali ma anche più banali dell'etichetta sono molto importanti. Alcune discipline ancora portano tracce molto forti di questo aspetto. Per molta parte questo si è perso, ma si è perso in Occidente come si è perso in Oriente. Non pensiamo che se andiamo in Giappone vediamo praticare le arti marziali come era prima della seconda guerra mondiale o ancora prima. La sportivizzazione poi per molti aspetti ha modificato quella che è l'etichetta. Credo che alcuni aspetti vadano conservati, non ripetendo dei gesti o dei rituali fino a se stessi, bisogna comprenderne il significato. Quindi non bisogna svuotare il gesto dai suoi significati originali, invece molto spesso il significato si è perso e quindi è rimasto una ritualità abbastanza folcloristica.